La bufera abbattutasi sulla giunta della Regione Lazio si è conclusa con le dimissioni del governatore Renata Polverini, senza suscitare peraltro particolari rammarichi per la decisione presa. La cittadinanza è indignata e arrabbiata per una gestione fatta di stipendi stratosferici e spese finalizzate a interessi privati, che al danno somma la beffa in periodi in cui si chiedono tanti sacrifici a chi ha meno. Il capogruppo SEL al Consiglio regionale del Lazio, Luigi Nieri, che nel corso della precedente legislatura era stato assessore al bilancio della Regione Lazio, ha denunciato come in quella stagione i bilanci fossero facilmente consultabili su internet da tutti, mentre il primo atto della giunta Polverini sia stato proprio quello di eliminare tutti i fondi per la partecipazione e la trasparenza. Sinistra Ecologia e Libertà nel Consiglio regionale del Lazio, in questi anni all'opposizione, ha condotto una battaglia durissima contro la Polverini e la sua maggioranza. SEL Lazio ha presentato da vari mesi una proposta diretta a dimezzare lo stipendio dei consiglieri regionali, ridurre le commissioni consigliari, cancellare i monogruppi. Ha detto Nichi Vendola. La Polverini ha fatto bene a portare in Consiglio regionale il dibattito e chiedere una pulizia profonda alla sua parte. La politica deve tornare ad essere una cosa pulita. In Puglia i gruppi devono rendere conto di come vengono spesi i finanziamenti. E comunque io penso che dovremmo imporre una dieta drastica al flusso di finanziamento pubblico. La voce delle dimissioni vuole a veloce fino in Lombardia. Noi anche qui siamo pronti a fare il passo delle dimissioni, ma chiedo alla maggioranza di PDL e Lega di battere un colpo perché la responsabilità è loro, ha affermato il segretario regionale del PD Maurizio Martina, commentando quanto successo nella regione Lazio. È il momento di voltare pagina. Grazie.